Siamo adesso sul nascente parco delle farfalle nel quartiere Annunziata grazie all'iniziativa del Comitato dei quartieri del Comune di Giorno. Nicoli Battista è l'anima di questo progetto? Sì, insieme a tutto il Comitato e al Presidente Sandro che è nata l'idea e abbiamo iniziato a strutturare la cosa insieme all'assessore e abbiamo iniziato a realizzarlo. Qua vediamo delle piante? Al momento delle piccole piante. Le farfalle quando arriveranno? Le farfalle arriveranno se va bene fine estate oppure il prossimo anno. Abbiamo anche messo piante da frutto. Te le hanno messe dentro una costruzione? No, 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 libere. Tutte piante che attirano farfalle sono libere, niente di racchiuso. E che piante sono? Ci sono diverse piante ed è strutturata diciamo in due modi. Una parte dove si mettono piante che avvicinano i bruchi che poi diventeranno farfalle. Piante tipo il prezzemolo, l'aneto, il finocchio selvatico che si trova da quella parte e poi c'è la siepe che fa parte sempre delle piante che attirano farfalle e poi tutte piante colorate all'interno e abbiamo anche seminato. A se storia il Comune che ruolo ha in questa vicenda? Il Comune ha un ruolo di supporto verso questa lodevole iniziativa del comitato di quartiere che abbiamo sposato volentieri. C'è un progetto di riqualificazione di diverse aree nei diversi punti della città anche su Villa Pozzoni, case di Trento, cantiere, la riqualificazione delle aiuole del lungomare e quindi l'abbiamo sposato sia perché era giusto dare l'apporto anche nel quartiere annunziata ma soprattutto per la lodevolezza dell'iniziativa. Si sa quando potrete essere disponibili. Presidente, una battuta a Sandro Brandibatte, quando potrebbe essere concluso il tutto? Il tutto? Niente, praticamente è quasi tutto pronto, basta fare una stagionata che a giorni inizieranno a fare. Quando arrivano le partagate? Quando vengono attratte? Diciamo durante l'estate già ci sono dei fiori che attraggono, tipo le margherite viole, gialle, poi c'è la pianta, proprio una pianta. D'estate avremo un parco che funziona? Colorato. Colorato. Grazie a Presidente, grazie a Di Battista e all'assessore Giorgini. Grazie a voi.